In questo numero è Savonese il più importante importatore e trasformatore di frutta. 100 anni di storia, 100 anni di frutta secca. Correva l'anno 1908 quando alla Camera di Commercio di Savona viene iscritta la ditta individuale Benedetto Noberasco. La testa e il cuore è quello tutto ligure di questo giovane imprenditore di Albenga che insieme alla moglie Maetta sa guardare lontano. Agli albori del Novecento riesce a leggere i segni del progresso, dei nuovi mezzi di trasporto che aprono grandi prospettive al commercio e agli scambi internazionali. Con 2000 lire di capitale avvia un'impresa destinata alla raccolta, alla confezione e allo smistamento dei prodotti ortofutticoli tipici della piana in Gauna. La prima sede è quella di Via dei Mille ad Albenga. I contatti con l'estero portano in breve tempo anche all'importazione. Benedetto acquista a Marsiglia le prime partite di datteri, li lavora in Liguria e li spedisce ai clienti in tutta Europa. Arriveranno poi le noci, le noccioline, i frutti secchi e l'innovazione passa anche per i contenitori dei prodotti. Nel 19, finita la prima guerra mondiale, in azienda si affaccia il figlio Pierluigi che la condurrà fino alle soglie del 2000 e con lui vengono scritte altre grandi pagine della Noberasco. Nel 33, in collaborazione con le ferrovie, realizza il primo vagone frigorifero. Arriveranno poi i primi aeroplani commerciali. Negli anni 50, l'estensione commerciale tocca il suo punto massimo con 48 magazzini sparsi in tutte le regioni. Ma Noberasco è Ligure ed è nella sua terra che vuole restare. Così, sul finire degli anni 60, ecco il grande stabilimento di Albenga. Pierluigi studia, si ingegna, ci crede fino in fondo. È così che adotta un nuovo sistema di lavorazione per le pruni e per gli altri prodotti, con tecnologie in grado di conferire i frutti in lunghi periodi di conservazione. Il passaggio dal mercato dei prodotti venduti sfusi a quelli confezionati poi fa compiere un altro balzo in avanti all'azienda. C'è bisogno di espandersi, si crea uno stabilimento nel mezzogiorno che consente di seguire la catrina del freddo, della surgelazione e della precottura. Nel 1988, in occasione degli 80 anni dell'azienda, Pierluigi Noberasco fa il punto della situazione. Oggi ho l'orgoglio di vedere realizzata un'azienda di importanza nazionale, che è anche un vanto della nostra zona, della nostra città, e soprattutto il mio capolavoro penso sia quello di aver potuto mantenere in collaborazione strettissimi i miei quattro figli, che lavorano tutti nell'azienda e che ne assicurano un continuo sviluppo nel domani, quando già si delinea la quarta generazione, figli di miei figli, i quali spero che continueranno anche oltre il centesimo anno di fondazione. E siamo arrivati ai cento anni, con l'azienda sempre saldamente in mano alla famiglia, il sogno di suo padre è stato realizzato. Sì, è proprio così, il sogno di mio padre si è realizzato, io devo dire che insieme ai miei fratelli sono orgoglioso e fiero di aver contribuito, credo validamente, a questo traguardo. Come diceva appunto mio padre, il suo auspicio era che l'azienda restasse in mano alla famiglia, è così, e poiché la quarta generazione è già parzialmente all'interno dell'azienda, è già attiva all'interno dell'azienda, spero proprio che seguano l'esempio del nonno, del papà, dei padri e che si attivino con tutta la loro forza, magari per arrivare al bicentenario, non si sa mai, e spero sempre ovviamente come noberasco. 80 dipendenti, obiettivo di 70 milioni di euro di fatturato nel 2008, dal 2005 stabilimento ipertecnologico a Vado Ligure per garantire un prodotto sempre senza conservanti e poi il negozio noberasco nel cuore di Albenga, prima bottega in Italia di frutta secca. Qui siamo esattamente nel luogo dove è iniziato lo stabilimento noberasco, questo era un magazzino di lavorazione e poi il vecchio stabilimento era dall'altra parte della strada dove mio nonno, benedetto, ha iniziato le lavorazioni. E questo è stato fatto proprio come regalo a mio padre il quale aveva sempre desiderato avere un punto vendita che lo potesse mettere in contatto con la gente di Albenga. Così è trascorso un secolo di imprenditorialità in Liguria e in particolare nel suo ponente, cento anni di storia economica e sociale, una storia vera, ricca e con tante sfumature, proprio come la frutta. Grazie a tutti.